Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it Continua il corso dedicato ad Adobe Audition Parliamo di suono e stiamo imparando come utilizzare questo splendido software firmato ad Adobe per fare l'editing dei nostri progetti audio, ok? Anche legati a progetti video, perché purtroppo molti videomaker dimenticano l'importanza del suono quando lavorano e fanno i video soprattutto i giornalisti, non me ne vogliano però ecco, se andate in molti giornali online e anche molte televisioni l'audio purtroppo è sempre lasciato un po' troppo in secondo piano e invece è importantissimo Allora, il corso è chiaramente ancora gratuito questa lezione è aperta a tutti quindi buon apprendimento se poi questo corso vi piace le prossime lezioni invece saranno dedicate dedicate solo agli abbonati a questo canale YouTube quindi se volete continuare poi dalla prossima lezione dovete abbonarvi l'abbonamento costa solo 3 euro al mese quindi 3 caffè che mi offrite al mese non credo siano eccessivi e oltre a questo corso troverete anche il corso dedicato ad Adobe Premiere Pro e ad Adobe After Effects per il momento poi altri corsi ancora arriveranno bene, torniamo a noi parliamo oggi di Audition ma purtroppo dobbiamo occuparci un minimo di teoria perché quando lavoriamo con il suono ci sono alcune informazioni tecniche che è bene conoscere per poter lavorare al meglio oggi parliamo di frequenza di campionamento e profondità in beat di un segnale audio beh, spiegare la frequenza di campionamento in realtà è abbastanza semplice molti di voi sicuramente avranno sentito parlare di suoni con frequenza di campionamento a 44.100 Hz o 48.000 Hz sono un po' i due standard il primo per la musica il secondo per le produzioni broadcast video ma a cosa ci riferiamo quando parliamo di frequenza di campionamento? bene, questo è un audio ascoltiamolo 1, 2, 3, bravo microfono si niente di eccezionale e se lo andiamo a vedere a prima vista è continuo questo in realtà è un audio digitale quindi è bene ricordare che la principale differenza fra il digitale e l'analogico questo in generale è che un qualcosa di digitale è per definizione discreto mentre un segnale analogico è continuo beh, noi vediamo questa forma d'onda e a prima vista ci sembra continua ma questo è un audio digitale e quindi continuo non può essere è sicuramente discreto se io vado ad ingrandire questa forma d'onda apparentemente ancora continua a un certo punto noterò che in realtà è composta da dei pezzettini dei campioni per la precisione se io ho registrato questo audio in questo caso a 192.000 Hz vuol dire che questo suono è stato fotografato ben 192.000 volte ogni secondo beh, è inutile che io vi dica che maggiore è il numero di campioni che abbiamo meglio è anche se poi andremo a lavorare per il broadcast e quindi lavoreremo a frequenze di campionamento più basse quindi quando andremo ad esportare un video per esempio e lo consegneremo ovviamente non consegneremo un video con una frequenza di campionamento elevatissima anche perché altrimenti il peso poi del file aumenterebbe ma consegneremo il file al classico standard di 48.000 Hz ma se noi dobbiamo lavorare un segnale audio quindi applicare degli effetti rallentare il suono modificare il pitch aggiungere dei riverberi o altri effetti qualunque tipo di effetto noi possiamo immaginare bene, è sempre meglio lavorare ad una frequenza di campionamento maggiore la più alta che noi abbiamo a nostra disposizione in genere si lavora a 96.000 Hz per esempio per poi fare un downgrade a 48.000 quando andiamo ad esportare bene, se spiegarvi cos'è la frequenza di campionamento è più o meno semplice è un po' più complicato e spero di riuscirci a spiegarvi cos'è invece la profondità in bit di un segnale audio cerco di fare del mio meglio poi se non capite scrivete nei commenti e vedremo magari di approfondire l'argomento ogni campione ovviamente porta con sé delle informazioni nello specifico ogni campione audio descrive l'intensità che il suono ha in quel determinato momento prendete questo campione qui questo campione qui viene fotografato con una certa intensità sonora ora ogni suono ha una sua dinamica intendendo per dinamica la differenza tra il suono più silenzioso il suono più basso e il suono invece più rumoroso la differenza tra il suono più silenzioso più basso e il suono più rumoroso costituisce quella che viene chiamata la dinamica di un audio ecco il numero di informazioni la quantità di informazioni che noi possiamo andare a memorizzare in ogni singolo campione è rappresentata dalla profondità dei bit del bit ora il bit è l'unità minima di informazione in ambito informatico per esempio e quando parliamo di audio normalmente si lavora anche qui per standard se lavoriamo per esempio per la produzione di un cd musicale normalmente lavoriamo a 16 bit se lavoriamo in ambito per esempio video cinematografico lavoriamo a 24 bit ecco anche qui quando noi andiamo a registrare e a produrre un video o un audio che poi dobbiamo lavorare in post produzione è sempre meglio lavorare ad un numero più elevato di bit o per esempio 32 bit ecco 32 bit è un valore che permette di immagazzinare registrare molte molte più informazioni in ogni singolo campione vedete queste linee per esempio che rappresentano questa griglia ecco ipotizzate che questi siano dei valori ok questo pallino qui può stare per esempio ad un'altezza ben precisa ora maggiore è il numero di bit più saranno le posizioni che questo singolo valore questo singolo campione potrà avere e chiaramente descriverà molto meglio un suono ok la fedeltà sarà maggiore cerco di farvelo capire visivamente con un esempio pratico prendiamo questo suono il primo suono questo è stato registrato ad un bit rate ad un scusate ad una profondità di bit di 32 ok ascoltiamolo 1 2 3 prova microfono sa ok niente di eccezionale guardiamo adesso il secondo file audio quello che segue questo qui per intenderci è stato registrato con una profondità di bit di 4 4 bit ok quindi veramente un valore bassissimo già guardando visivamente le due forme d'onda notate la differenza notate quando quanto questo file audio sia molto meno definito rispetto a quello che abbiamo ascoltato prima ora ascoltiamo anche a livello sonoro com'è la resa di un qualcosa prodotto a 4 bit 1 2 3 prova microfono sa 1 2 3 prova microfono sa ecco notate che subito la principale differenza è la quantità di rumore il file di prima registrato a 32 bit non ha praticamente rumore udibile dal nostro orecchio mentre il file registrato a 4 bit ha molto rumore ora ovviamente noi non lavoreremo mai a 4 bit nella peggiore delle ipotesi ci troveremo a lavorare con del materiale sonoro a 16 bit normalmente quando registriamo per esempio con un microfono perché però è sempre meglio registrare ad una profondità di bit maggiore perché chiaramente avere maggiori informazioni su cui lavorare in post produzione è molto meglio e io qui vi faccio vedere un esempio vado ad importare due file di test uno registrato a 16 bit e uno registrato a 32 bit sono due forme d'onda ok due forme d'onda eccole qui che però superano lo zero quindi abbiamo volutamente siamo volutamente andati in distorsione ascoltiamo ok un file l'altro apparentemente sono identici qual è la differenza che con il file che noi abbiamo registrato a 16 bit se noi andassimo ad abbassare il volume noteremo come poi la forma d'onda in realtà viene tagliata ok perché non abbiamo informazioni per poter recuperare se andiamo invece a lavorare con un file a 32 bit lo stesso identico file ma a 32 bit e poi andassimo ad abbassare il volume ecco qua noterete che la nostra onda viene in qualche modo preservata perché i singoli campioni che compongono questa onda hanno le informazioni necessarie appunto per poter ripristinare la forma d'onda originale questo è un piccolo esempio molto semplice che potete replicare anche voi per capire quanto sia importante registrare un qualcosa o comunque lavorare del materiale con una profondità di bit maggiore attenzione ovviamente maggiore è la frequenza di campionamento di un suono e maggiore è la profondità dei bit ovviamente più grande sarà il file che noi poi andremo a generare quindi se pensate di non dover lavorare un file in post produzione potete evitare di lavorare a 32 bit ma se state registrando qualcosa che poi sapete dovete in qualche modo post produrre molto quindi applicare compressori riverberi andare a lavorare con le frequenze con equalizzatori e cose del genere ecco è sempre consigliabile lavorare con un file che sia di qualità elevata ok quindi lavorare sempre con del buon materiale finisce qui questo video tutorial sperando di essere stato chiaro per quanto possibile commentate se volete fare altre domande vi invito però ad approfondire questi argomenti se avete intenzione di lavorare con il suono perché quello che abbiamo detto qui oggi è solo una come si dice un accenno a qualcosa che in realtà è molto più complesso e che però se volete lavorare con il suono è molto importante conoscere cercate su youtube ci sono molti video tutorial di altre persone soprattutto in inglese che spiegano molto bene quella che è l'ingegneria del suono e la teoria che c'è dietro all'audio digitale bene dal prossimo video tutorial torniamo a parlare concretamente di audition e dal prossimo video tutorial dovrete abbonarvi se volete continuare a seguire questo corso l'abbonamento come già detto costa solo 3 euro al mese quindi 3 caffè che mi offrite ogni mese e oltre a questo corso di audition avrete accesso anche al corso completo di montaggio video con premiere pro e al corso di grafica animata con after effect se non volete abbonarvi e vi registrate a questo canale vi iscrivete a questo canale commentate questi video li condividete e mettete un like ovviamente mi aiutate ugualmente a portare avanti questo progetto grazie ancora buon proseguimento ciao